In Veneto le vasche di laminazione hanno salvato le città dall'alluvione, inclusa l'ultima fatta da poco, quindi le opere funzionano. Se si fanno funzionano. E le facciamo? Se si fanno e le dobbiamo spingere nel farlo. Mi rendo conto che ad ogni diga che raccoglie acqua, e che quindi raccoglie acqua quando ne viene troppo e la rilascia quando c'è la siccità, ad ogni vasca di laminazione c'è qualche comitato, perché comunque crea qualche difficoltà anche a livello locale. Però è la strada dell'adattamento, perché noi non possiamo parlare solo di mitigazione, dobbiamo parlare di mitigazione sul reino energetico, ma poi di adattamento di quella che è una realtà che è diversa. Ed è diversa perché ciò che era straordinario fino a 10-20 anni fa, oggi rischia di essere ordinario.